Partiamo dall'ariete. La vostra estrema istintività potrebbe guidarvi davvero fuoristrada, poiché ci sono tante piccole opportunità che voi non guarderete neppure. Andate pure per la vostra strada, ma cercate di svoltare qualche volta. Toro, tutte le esperienze che fate nella vita potrebbero alla fine risultare utili per qualcosa, quindi perché evitarle? A meno che non siano pericolose per la vostra salute, infatti, non c'è motivo per negarsi qualcosa di divertente o rischioso ogni tanto. Gemelli, la giornata promette bene e questo è un sollievo per voi che siete sempre in ansia. Siete sempre lì per cedere all'angoscia, ma poi, magicamente, si risolve sempre tutto. Cancro, se non avete ancora avuto la possibilità di prendere in considerazione l'idea di fare di testa vostra, allora questa sarà la giornata giusta per farsi avanti. Leone, oggi potreste lasciarvi irritare facilmente dagli umori altrui. Vi lasciate troppo condizionare e questa è una cattiva abitudine, soprattutto per coloro che vi sono accanto e che non capiscono le ragioni del vostro cambiafaccia. Vergine, se avete intenzione di vendicarvi in questa giornata di qualche torto subito da parte delle persone a cui volete bene, dovreste desistere per provare a capire il perché di certi comportamenti. Potrebbe essere anche colpa vostra. Bilancia, in questa giornata non esagerate troppo con le spese poiché i prossimi giorni potrebbero essere anche peggiori e potreste dover affrontare dei costi non previsti né prevedibili. Dovete tenere sempre a disposizione un fondo cassa. Scorpione, la giornata forse non sarà di vostro gradimento fino in fondo poiché non accadrà quello che volevate accadesse. Del resto neppure voi vi siete comportati come gli altri avrebbero voluto. Sagittario, vivrete la tipica situazione nella quale la testa vi dirà una cosa mentre il cuore vi farà sentire tutt'altro. Non ci sono molti spazi liberi nella vostra vita per cui avete lasciato a disposizione quelli che potrebbero essere più convenienti. Capricorno, in questa giornata soltanto con una full immersion nelle vostre questioni sentimentali riuscirete a risolvere tutte le magagne di questi giorni e ottenere risultati ma soprattutto risposte valide da parte della persona a cui tenete. Acquario, forse non volete dare e concedere senza ottenere qualcosa in cambio e questo non è certo da voi che solitamente siete generosi. Pesci, in questa giornata potreste volere di proposito evitare di impegnarvi sentimentalmente con una persona che vi sta a fianco in questo periodo, tuttavia vi negherete una possibilità e un'occasione per scoprire cosa si prova a essere apprezzati e amati.